ciao a tutti ragazzi e ragazze e benvenuti in un nuovo video come avete letto dal titolo oggi video dedicato a Ilari Girella che mi ha richiesto stelle e lune con foglia oro ed effetto galaxy ho dimenticato di mettere anche queste allora allora io di stelle e lune avevo solamente questo questo stampo perché sono i pendenti per un campanavento per cui ci sono qui mi era avanzato un po di resina per cui ho fatto anche questo tiriamo un pochino più sul tappetino qui c'è una stella a modi oddio come si chiamano gli acchiappasogni e qui ho fatto un po di pendenti da mettere anche qui agli acchiappasogni anche questa stellina era una stellina uno stampo di mi sembra petit 3d sì mi sembra una di petit 3d che erano quelli di natale e questi va bene gli stampi presi tutti da wish allora cara Ilari io l'effetto galaxy già lo vedo ma siccome ho adottato una tecnica un po pericolosa ho paura molto paura molta paura molto paura anche perché io qui ci dovevo andare con lo stuzzicadenti per muovere un po qualcosa non ho mosso niente perché mi è passato il tempo e non so cosa è venuto sotto ho provato a sbirciare un pochino sotto ma 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 sembra una cozzaglia da sotto devo dire la sincera verità ma più di una volta la cozzaglia che vedo al di là dello stampo poi quando vado a scoprire la creazione è una sorpresa allora cara Ilari andiamo subito di questi erano avanzi di di resina ho detto ci faccio questo stampini qui ok questa stellina con la foglia oro dentro sarà da colorare la la stellina ma forse sì forse no questi invece sono i nostri soggettini che trasparenti si vedono poco a di pensavo ci fosse andata da farci andare la foglia oro qui dentro foglia laminata color oro è un po un problema perché per spezzettare la foglia laminata perché io ce l'ho in fogli non ce l'ho in flakes per spezzettare la foglia laminata praticamente la dovrei spezzettare con le mani il problema è che mi sappiccica tutte le mani perché dentro al bicchierino si spezzetta sì ma se vuoi proprio una cosa piccola 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 non ce la fai e qui ci voleva una cosa piccola 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 eccoli qui si vedo dai staccati si vedono si si vedono poco perché sono trasparenti e sto girando questo video di sera tra l'altro dopo tutta la pioggia che ha fatto oggi dove andato eccolo e questi sono i charms io li chiamo charms mi piace chiamarli charms perché comunque li utilizzo come charms poi andiamo di stellina che non so perché ma mi si imbarcano per cui tiriamo fuori subito dallo stampo questo è un altro stampo che io ho comprato e messo lì e non ho mai utilizzato ok dove sono gli stampi di qua mettiamoli di qua che mi è più comodo e già così vabbè a parte che vi spara flash o ma già così tutte queste macchiette qui mi piacciono come è venuta sul dritto sulle punte ci ho fatto le nebulose ci dovevo riandare con lo stuzzicadenti non ci sono riandata sono un po preoccupata per questi ma vediamo si ci ho fatto questi qui in modo che poi dopo questi i pendenti vanno qui sotto e questi vanno il transito si poi dopo li possiamo mettere a caso come vogliamo come ci pare però ho già fatto vedere un po di volte allora andiamo a vedere con questi avanzi questo io da dietro a me piace non c'è la foglia oro ma è così proprio sembra veramente una galassia le nebulose un pianeta lontano la mia immaginazione vediamo vediamo ah queste no queste le ho fatte differenti da queste mi sa perché non ci ho fatto la base trasparente sotto per cui vediamole insieme le voglio vedere insieme questi due questi due le voglio vedere insieme cioè queste sono proprio le esplosioni cosmiche se proprio ce le vogliamo vedere se proprio ce le vogliamo vedere ma i glitter forse era meglio metterle sul nero piuttosto che sui colorati ma questo ha girato un pochino col bianco ma questo mi piace questa mi sembra proprio l'esplosione di una supernova sì 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 questa un pochino meno ma questa ci piace poi 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 no no sì ho utilizzato qualche sticker ma piccolini andiamo di stelle che adesso le tiro fuori tutte e due ok eccole sì qui dentro c'è un pianeta cioè qui dentro c'è un pianeta anche qui c'è la luna con tutte le sue macchiette ci piace? ci piace? effetti strani effetti strani questa tecnica mi piace praticamente io per fare queste cose qui ho messo le gocce di resina sempre sullo stesso punto sempre e poi si sono sparse da solo hanno fatto il loro gioco si sarebbero dovute la resina si sarebbe dovuta catalizzare un pochino e poi ci sarei andata io lì con lo stuzzicadenti a fare la spirale delle come dire della galassia ma come ho detto prima non ci ho avuto tempo ed è rimasta lì ed è catalizzata totalmente per cui non l'ho potuta più toccare ma l'idea era quella lì devo rifare lì devo rifare perché l'idea era quella andiamo nella prima fase lunare con un piccolo eccesso che si toglie e caduto e questo piccolo adesivo che io ci ho messo qui non si vede cioè si cabuffa molto ma è piccolissimo questa è venuta questa chiazza qui in mezzo ma potrebbe potrebbe sembrare una sorta di una sorta di una sorta di mi piace mi piace come è venuto questo effetto non eccessivamente cioè non non era l'effetto che volevo chiariamolo perché proprio perché mi sono dimenticata di andarla lì a toccare con lo stuzzicadenti ma non è venuto male non è male dipende forse dal troppo bianco che ci ho messo ecco questa è è proprio la luna con tutti i suoi crateri e questa potrebbe sembrare potrebbe essere la luna illuminata dall'ombra illuminata dal sole e semi ombra non mi dispiacciono non è l'effetto che volevo ripeto ma non mi dispiacciono Hilary se non ti piacciono dimmelo dimmelo che li rifaccio come si deve eccola la luna sì anche qui c'è un piccolo adesivo ma qui c'è anche qui c'era un piccolo adesivo dove è andato a finire qui è caduto qui ci doveva ah e sì eccola ma è proprio nascosto no qui l'adesivi si camuffano ci ho messo questi qui questi ma sono talmente piccoli e bianchi che se utilizzo questa tecnica non si vede non si vede ve la avvicino più che posso questo è un mega cratere dentro la luna eventualmente con una fresa si può anche bucare e fare effetto geode ma noi non lo facciamo cioè ma questo non tanto ma questo c'è anche questo c'è va bene vengono meglio vengono meglio a rovescio eccola è venuto tutta chiazza il bianco coccolato anche se ci ho buttato dentro anche il trasparente ma è venuto un pochino una chiazza questo qui non è che mi piaccia poi granché no questo invece è il primo che ho fatto che è quello più grande l'avevo iniziato a fare in un modo poi dopo come avevo visto questa tecnica qui cioè perlomeno come veniva in superficie questa tecnica qui veniva benissimo cioè no questo era quello più bello questa mi piace sia al dritto che al rovescio cioè c'è due effetti completamente diversi ma sono bellissimi e questo è l'ultimo ecco ce lo sapevo io no questo no questo non mi piace questo mi sa tanto di effetto ce l'avete presente quando vedete al microscopio le cellule mi dà quell'effetto è una cellula abbiamo fatto una cellula con una cometa qui dovrebbe essere una cometa ma qui dov'era qui non si vede il pianeta se è nascosto se è nascosto il pianeta c'era un pianeta però 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 abbiamo fatto la cellula sempre di scienza si tratta sempre di scienza si tratta allora cara Hillary qui però c'è poca luce voglio vedere se con questa si vede di più insomma manco tanto è sera si sto registrando il video di sera perché quando vedrete questo video non posso un bel po' di cose da fare per cui me lo sto registrando il giorno prima tanto queste sono belle che catalizzate adesso lascio le impronte no ma qui è venuta una micro bollicina eccola anche qui maledetta ma non le potevi fare di qua che non mi piaceva granché ma è venuta anche di qua no questa non è una bollicina di qua non è venuta ecco ce lo sapevo e niente ragazzi ragazze allora cara Hillary ti ripeto se non era quello che avevi in mente basta che me lo scrivi sotto nei commenti io ti rifaccio le creazioni come si deve questa volta perché non è che non mi sembra tanto proprio l'effetto che volevi tu e non c'è nessunissimo problema per il resto per chi volesse avere un video dedica su questo canale basta che mi scrive sotto nei commenti a chi devo dedicare il video gli stampi i pigmenti come volete farli come ha fatto Hillary e come hanno fatto tante altre persone in questo contest allora 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 cara Hillary io ti ringrazio per la richiesta intanto ti ripeto se non è proprio quello che avevi in mente tu basta che me lo dici e io te le rifaccio non c'è nessunissimo problema per il resto mi raccomando pollice in su iscrivetevi al canale attivate la campanellina condividete commentate e create e noi ci vediamo alla prossima ciao ciao grazie Hillary ciao ciao